salve a tutti amici e amiche nel video di oggi proverò a fare un po di luce sulle nuove tecnologie e i progetti per i caccia di sesta generazione che sono in sviluppo in europa e negli stati uniti cercheremo di capire insieme quali saranno le loro caratteristiche principali nonostante ci siano pochissime immagini che ci mostrano come saranno principalmente sono rendering 3d e poco altro come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale il vostro sostegno è fondamentale è proprio grazie a voi che il canale sta crescendo quindi sottolineo quanto sia importante proprio il vostro sostegno per permettermi di continuare a fare video e tenervi aggiornati sul conflitto e sulle nuove tecnologie insomma senza di voi tutto questo non sarebbe possibile perciò grazie di cuore e per i nuovi iscritti siete più che benvenuti gli argomenti di questo video sono stati richiesti proprio da voi nei commenti con domande sul programma ngad i missili ipersonici il tempest europeo è un progetto della nasa chiamato sr 72 quindi vediamo di iniziare e procedere per gradi partiamo col dire che gli ultimi decenni hanno visto un impiego sempre più esteso di tecnologie stelt e materiali compositi per lo sviluppo di aeroplani da combattimento con ridotta osservabilità radar e non solo molti sforzi sono stati fatti anche per ridurre le emissioni termiche ma facciamo un passo indietro per raccontare una storia davvero interessante il padre della moderna tecnologia stelt è un fisico e matematico russo petr uvmicev classe 1931 nato da una famiglia contadina perso il padre a causa delle repressioni del regime sovietico che lo deportarono in un gulag nel 1949 terminati gli studi superiori si iscrisse alla facoltà di fisica nell'odierno kazakhistan per poi trasferirsi presso l'università nazionale a udessa nell'attuale ucraina e da lì poi fu selezionato per lavorare all'istituto centrale di radio elettronica del ministero della difesa sovietico a mosca dove si specializzò sullo studio di dispositivi per la guerra elettronica nel corso del suo lavoro a mosca uvmicev iniziò a interessarsi allo studio e alla descrizione della riflessione delle onde elettromagnetiche nel 62 pubblicò il suo lavoro più importante un saggio intitolato il metodo delle onde marginali nella teoria fisica della diffrazione in questo saggio un'analisi teorica sulla riduzione della sezione radar equivalente il fisico russo illustrava una teoria asintotica o ad alta frequenza per predire la diffusione di onde elettromagnetiche da parte di oggetti bi e tridimensionali tra gli oggetti presi in esame nello studio di questa teoria vi era un disco un cilindro un cono un paraboloide finito e un segmento sferico punto fondamentale del saggio era la dimostrazione che l'intensità di un'onda di ritorno radar è proporzionale alla conformazione degli spigoli di un oggetto e non delle sue dimensioni prendendo l'esempio di un velivolo quindi la sezione radar equivalente risulta calcolabile anche solo attraverso la superficie delle ali e i suoi bordi e quindi può essere notevolmente ridotta agendo sulla conformazione di questi ultimi i alti vertici dell'istituto a mosca però giudicarono lo studio non significativo né da un punto di vista militare né da quello economico così uvmicef ottenne il permesso di pubblicare i risultati della propria ricerca a livello internazionale e così nel 1971 dopo nove anni dalla pubblicazione il libro di uvmicef fu tradotto in inglese con il titolo method of age of waves in a physical theory of diffraction a cura del reparto per le tecnologie straniere della aeronautica militare statunitense ok cioè l'unione sovietica non prese in considerazione i suoi studi e permisero quindi di pubblicarli e gli stati uniti ci hanno poi sviluppato tutta la tecnologia stealth che conosciamo oggi fra l'altro gli stati uniti all'epoca iniziarono a capire i limiti dei loro grandi aerei d'attacco al suolo e i cacciabombardieri che spesso venivano abbattuti dai sistema di difesa misilistici nella guerra del vietnam era chiaro quindi che più le tecnologie radar progredivano più era necessario sviluppare contromisure elettroniche ma soprattutto aerei che fossero più difficili da rilevare così nel 1974 l'ufficio per lo sviluppo delle tecnologie tattiche presso il darpa si rese conto che era necessario sviluppare una tecnologia che consentisse a un ipotetico bombardiere di arrivare fin sopra il bersaglio senza essere individuato e di sganciare il proprio carico bellico con la massima precisione e in tutta sicurezza e si produsse una sorta di bando di gara fra le maggiori compagnie americane per lo sviluppo di un aereo con queste caratteristiche la lockheed il cui centro di ricerca si era subito messo a lavoro per individuare quale fosse la sua forma minima che veniva rilevata da un radar quindi capire come costruire un aereo al di sotto di quella soglia aveva concluso che per avere la minore rifrazione radar si dovesse realizzare un aereo che avesse delle superfici piatte e inclinate per didiare le onde radar e senza spigoli vivi nella sezione da cui provenivano le onde stesse ma dai primi calcoli scusate sta passando una moto ma dai primi calcoli si capì che applicare spigoli e forme non era sufficiente e fu allora che l'attenzione dell'ufficio tecnico cadde sul saggio di ufmicef tradotto anni prima dall'aeronautica militare introducendo le equazioni sviluppate dal fisico russo il software per calcolare queste onde di ritorno riuscì a stabilire che la forma ideale per ottenere l'invisibilità radar era quella di un aereo con ala a freccia molto stretta e superfici sfaccettate era nata così la geometria stelt il successo degli studi portò così al progetto ave blue precursore dell'f 117 night hawk risollevando fra l'altro le sorti della lockheed e facendone di fatto la sua fortuna negli anni il lavoro del fisico russo fu utilizzato da tutte le aziende aerospaziali europee e americane impegnate nella realizzazione di velivoli stelt la northrop per esempio utilizzò le equazioni del fisico russo per poter predire con i suoi super computer la traccia radar del bombardiere strategico b2 spirit in seguito al successo delle sue teorie e dopo la caduta dell'unione sovietica nel settembre 1990 ufmicev si trasferì negli stati uniti e lì poi lavorò presso la northrop grumman corporation quindi il padre degli aeri stelt e questo fisico russo né più nemmeno i suoi studi e le sue intuizioni hanno influenzato poi tutti gli aerei successivi della lockheed come l'f 22 e l'f 35 oggi questi studi e queste tecnologie sono andati avanti oggi per esempio sappiamo che spigoli e forme non sono le uniche cose da considerare a concorrere quando si vuole ottenere un aereo stelt soprattutto si è capito che le forme in particolare sono molto efficaci contro un certo tipo di onde soprattutto le alte frequenze nella banda x che sono tipiche dei radar aviotrasportati i radar doppler degli aerei intercettori e caccia in generale mentre le grandi antenne poste a terra tipiche dei radar di scoperta e dei sistemi missilistici possono lavorare in molti molti frequenza a frequenze più basse non a caso l'efficacia dell'f 117 contro vecchi sistemi di ricerca associati a postazioni come per esempio isa 3 questa efficacia fu messa molto in crisi durante la guerra in kosovo quindi oltre a sviluppare un aereo con determinate geometrie per ridurre la rifrazione delle alte frequenze si si capì che era necessaria la sostituzione dei materiali metallici con materiali compositi rivoluzionando così l'industria aeronautica questi materiali oltre a essere più leggeri permettono oggi di ottenere migliori compromessi quando si vuole realizzare un aereo da combattimento che dovrà per forza di cose avere delle forme aerodinamiche non spigoli e angoli come l'f 117 studi che influenzarono poi lo sviluppo anche di altri aerei uno su tutti l'euro fighter per esempio che è considerato un aereo con capacità stealth con una riduzione della propria rcs per certi versi insomma con il 40 per cento del suo peso strutturale realizzato in materiali compositi l'euro fighter ha un'importante riduzione della propria rcs nonostante la sua forma che può essere considerata quella di un aereo tradizionale l'utilizzo di questi materiali permette a questo splendido aeroplano di non essere visto se non a distanze per cui l'avversario sarebbe ormai bello che spacciato da tempo per fare degli esempi comprensibili di quello che sto dicendo utilizzando delle tabelle che vanno bene come riferimento mostrano le distanze a cui per esempio il radar di un f 16 block 52 può rilevare altri aerei quindi vediamo che per esempio un vecchio mig 29 o su 27 o un altro f 16 della prima serie è visibile a oltre 100 chilometri di distanza moderni aerei invece che utilizzano questi materiali e tecnologie come per esempio l'euro fighter il super hornet o le ultime versioni delle f 16 sono visibili a metà della distanza circa 50 chilometri di distanza quindi fidatevi non riuscire a vedere con il radar un aereo come l'euro fighter fino a 50 chilometri che può attirare un missile come il meteor che è oggi il missile aria aria più moderno e pericoloso in circolazione e questo lo può fare in modalità totalmente silenziosa utilizzando i suoi sensori passivi diciamo che non è per niente una bella cosa trovarsi contro un euro fighter oggi non è un caso che l'euro fighter è considerato per queste caratteristiche i compromessi le prestazioni e la bassa osservabilità radar e i suoi missili e sensori insieme all'f 22 il caccia migliore al mondo ora lo sviluppo dei materiali compositi basati sulla fibra di carbonio denominati cfc e plastiche speciali grp più tutte le ricerche sulle leghe di titanio e alluminio non sono state uno scherzo se poi devi metterli su un oggetto che deve sopportare fino a 10 volte il suo peso e volare a mach 2 per temperature che superano i 150 gradi comporta enormi sfide ingegneristiche questi materiali devono avere elasticità resistenza meccanica termica sopportare lunghissimi lunghissimi cicli operativi senza considerare i costi esorbitanti per realizzarli solo pochissime aziende europee e statunitensi possono realizzarli e questi progetti sono molto più segreti delle cosiddette forme stealth che voglio dire basta una buona fotografia per copiarle da un punto di vista di evoluzione negli ultimi decenni c'è stato un enorme passo in avanti in questo senso mentre vediamo le equazioni del fisico russo ufmchev applicarsi in modo più o meno costante almeno se parliamo delle forme e non a caso infatti f 22 f 35 si assomigliano per certi versi se parliamo di forme ma posto che ho già parlato di f 22 ed f 35 in un video precedente facciamo un salto avanti e vediamo quali sono state le specifiche che il governo americano ed europeo e governi europei hanno prodotto per il caccia di sesta generazione posto che questi programmi possono essere considerati diversi di diversa origine e impiego però per certi versi sono simili e premetto che stiamo sempre parlando di concept di idee di intenzioni sono progetti segretissimi quindi non gira niente abbiamo solo immagini in 3d in giro sono solo grafiche e illustrazioni lo stesso tempest europeo da di cui è stato presentato un simulacro tempo fa non è detto che quella sarà poi la sua forma definitiva comunque gli stati uniti hanno proposto il loro programma ng ad acronimo che significa in italiano aereo per la superiorità aerea di nuova generazione nelle loro intenzioni se ci basiamo sulle dichiarazioni del segretario delle forze aeree degli stati uniti frank kendall che ha tenuto proprio una conferenza spiegando queste novità il programma ng ad svilupperà un nuovo aereo sia per l'aviazione che per la marina con due soluzioni indipendenti avrà una ridotta osservabilità radar in multifrequenza nettamente superiore a quella di aerei come l'f-22 e l'f-35 avrà una ampia capacità super cruise cioè potrà volare in regime supersonico senza l'utilizzo del post bruciatore con un'ampia autonomia quindi e raggio di azione e potrà avere caratteristiche di volo autonomo eventualmente quindi privo di pilota ma soprattutto sarà affiancato da una costellazione di droni multifunzione sacrificabili che potranno ricoprire molti dei task come ampliare la sua capacità di scansione e acquisizione dei bersagli aumentare così la consapevolezza situazionale della flotta svolgere il ruolo di piattaforme di lancio di missili alternative e da posizioni diverse sacrificarsi in caso di bisogno come un falso bersaglio eccetera eccetera in questa direzione ci sono già dei progetti concreti che hanno visto la luce e stanno effettuando le loro prove di volo come per esempio i droni della boeing mk 28 ghost bat che vi mostro in queste immagini droni che hanno già si vedono hanno già delle caratteristiche stealth che con la loro stiva ventrale possono trasportare armamento sia aria aria che aria terra il concetto quindi è che il caccia di sesta generazione nga di americano sarà una sorta di piattaforma pilotata probabilmente sarà caratterizzato dall'assenza di derive e timoni verticali convenzionali perché queste diciamo queste superfici stabilizzano l'aeroplano ma in contrasto sono molto visibili nello spettro della delle onde elettromagnetiche quindi l'aeroplano potrà avere una forma tipo tuttala con una forte freccia per rientrare negli angoli necessari per la cosiddetta stealthness con due motori annegati e nascosti sotto il profilo termico e visivo con dei tipici cunei posteriori per la spinta vettoriale che sarà necessaria in quanto appunto se sarà privo di stabilizzatori verticali questi motori quindi saranno in grado di stabilizzare anche l'aeroplano durante le manovre di combattimento il compromesso più evidente di questa forma è che potrebbe in teoria ridurre di molto sì l'osservabilità radar rispetto alla forma più tradizionale di un f22 e l'f35 però certamente avrà dei deficit nella capacità di manovra velocità supersoniche e manovre acrobatiche non vanno molto d'accordo in prima battuta perché i piloti non amano particolarmente sentire che il proprio corpo arriva a pesare oltre 500 kg anche gli zebedei per intenderci con tutto che c'è il sedile in una virata sostenuta a 8 volte il proprio peso arrivano a pesare fino a 4 kg 4 kg vi rendete conto di cosa significa altra caratteristica interessante di questo progetto è che sarà in grado di controllare molti altri aeroplani non pilotati per un'idea espressa dallo stesso kendall in cui fra l'altro si riferiva all'f35 che ha già queste queste possibilità per citare le sue parole non sempre hai bisogno di una ferrari se devi correre una gara sul fango ma ti tornano comodo tanti piccoli aerei sacrificabili che sono molto utili in una guerra sporca su larga scala e di attrito da queste idee e questi concetti capiamo che lo scenario ipotetico di cui parla kendall e di cui hanno un po' paura in questo momento gli americani è un eventuale escalation con la cina nel pacifico in un possibile teatro come quello di taiwan mentre in europa nonostante certe preferenze politiche gli interessi delle aziende principali come la buy system la leonardo la rime metal ad assault la sub svedese alla fine ad oggi che sto scrivendo questo articolo se almeno parliamo del tempest le nazioni direttamente interessate sono italia inghilterra e giappone formalmente solo italia e inghilterra mentre il giappone con le sue enormi innovazioni per quanto riguarda i propulsori svilupperà la sua versione del tempest con un altro nome e da quello che possiamo immaginare gli stessi propulsori poi avranno le loro licenze di produzione in europa teoricamente il tempest dovrebbe sostituire l'eurofighter a partire dal 2035 ma in realtà l'european air group cioè la forza aerea europea ha nelle sue due nazioni fondatrici proprio inghilterra e francia poi altre che si sono aggiunte per prima l'italia oggi di fatto l'europa european air group dispone delle migliori tecnologie militari per la difesa aerea primato che può contendersi solo con gli stati uniti l'eurofighter e i rafal se parliamo di intercettori non hanno uguali adesso l'f35 stesso è il più avanzato caccia bombardiere esistente e lo sarà ancora a lungo nonostante il conflitto in ucraina se si parla di superiorità aerea l'europa non ha in teoria niente di cui preoccuparsi e anche aerei come il griffon l'efa rafale l'f35 sono ancora molto giovani dal punto di vista ingegneristico e in continuo sviluppo e upgrade per cui non credo che vedremo niente di concreto per il momento se parliamo di caccia di sesta generazione e anche parlare del 2035 per il tempest è un poco prematuro è possibile che il tempest sarà una sorta di fusione fra l'f35 e l'eurofighter per come la vedo io stessa cosa per l'fcas tedesco spagnolo o francese che sia sono molto scettico credo e questo prendetelo come una mia opinione personale credo che nessuna nazione oggi da sola possa più sviluppare un aereo del genere posto che le aziende in europa che possono farlo si contano sulle dita di una mano alla fine se e quando si parlerà del caccia di sesta generazione europeo per forza di cose queste aziende dovranno collaborare non ci sono santi questa collaborazione tra l'altro ha radici lontane nate con un principio con il g 91 e poi il tornado con la legna ha spianato la strada e l'eurofighter probabilmente è una delle cose più sorprendenti degli ultimi 2000 anni in europa il meglio della tecnologia inglese tedesca italiana in un'unica macchina fra nazioni che si scannavano fino all'altro ieri e per quanto si porta possa affermare il contrario lo stesso rafale francese che rappresenta la loro forte individualità il desiderio di non dipendere da nessun'altra nazione sotto il vestito ha molte più cose in comune con l'eurofighter di quanto si creda chiamate le convergenze ingegneristiche se non collaborazioni quindi penso che per il tempest o come si vorrà chiamarlo probabilmente ne avremo più versioni dello stesso realizzate dalle aziende principali in europa fra francia inghilterra italia non lo so la stessa svezia che oggi si è chiamata fuori ufficialmente dal progetto più realisticamente ha pensato che il griffen al momento è più che sufficiente per le loro esigenze almeno fino al 2035 poi si vedrà quindi è tutto da vedere in ogni caso le caratteristiche del programma tempest sono molto simili per certi versi a quelle del programma ng ad americano forse almeno se dobbiamo basarci sui rendering 3d e sul simulacro che abbiamo visto esposto l'unica differenza è che ha ancora dei piccoli stabilizzatori verticali il velivolo di stessa generazione europea conserva una soluzione minima di stabilizzatori verticali così inclinati da essere avere una riduzione della propria rcs ma da funzionare sia da timoni che da elevatori in particolare poi sono state annunciate importanti soluzioni ingegneristiche per ridurre la sua traccia termica posto che appunto l'utilizzo di sensori passivi non è assolutamente da sottovalutare nella guerra moderna e l'euro fighter un po è questo che ci ha mostrato fino adesso con il pirate e per dei propulsori in grado di generare abbastanza energia da permettergli l'utilizzo di armi ad energia che avranno la funzione di distruggere o debilitare sensori o sistemi ostili chissà un poco come avviene per l'f35 oggi che con la sua suite elettronica sviluppata dalla bae sistema inglese è in grado di lanciare impulsi in direzione delle fonti elettromagnetiche e le aggredisce annichilendoli lo stesso potremmo ipotizzarlo con l'utilizzo per esempio di armi laser in grado chissà di friggere sensori e radar ostili sono discorsi molto difficili da considerare le armi laser sono già una realtà per esempio a bordo di navi militari e sono anche un po il futuro per quanto riguarda la difesa di punto essendo molto efficaci se si parla di precisione e dei tempi istantanei in cui operano ma generare la stessa quantità di energia di una turbina navale sul motore di un aereo non so quanto sia possibile non lo so magari le armi a energia che vedremo sui cacciari se sta generazione avranno più funzioni difensive come per esempio il disturbo dei missili in arrivo o il danneggiare i radar di ricerca avversari e forse potrebbero essere molto pericolose per i piloti in un certo senso quindi chissà magari un giorno il tettuccio sparirà e verrà sostituito da un abitacolo completamente chiuso comunque per tornare alle nuove tecnologie rispondere anche al commento che mi chiedeva qualche notizia riguardo a proposito dell'sr 72 beh la risposta veloce è niente quella più lunga è che non bisogna confonderlo con l'aereo che si vede nel film top gun maverick chiamato dark star quello è un aereo di fantasia vagamente ispirato all'sr 71 se vi interessa vedere come ho demolito quel film minuto per minuto vi passo il link in descrizione comunque l'sr 72 vero è soprannominato figlio del black bird non lo traduco in italiano perché vi lascio immaginare come suona e suona veramente male cioè non potevano scegliere un nome più ambiguo di così è classificato come un aereo non pilotato a controllo remoto o autonomo che dovrebbe svolgere il ruolo di raccolta dati di intelligence sorveglianza e ricognizione con capacità stealth e velocità ipersoniche anche se le due cose non stanno per niente bene insieme e lo vedremo gli aerei spia come l'sr 71 pur avendo dei motori ramjet che gli permisero di raggiungere velocità dell'ordine di mach 3 e qualcosa sono diventati presto obsoleti con lo sviluppo della minutarizzazione dei processori e dei computer la qualità delle ottiche che poi sono state impiegate ampiamente nei satelliti quindi aeri spia così veloci per fare fotografie di conseguenza non servono più a niente oggi con l'avvento dei satelliti tuttavia gli americani hanno ripreso un poco la mano con la tecnologia degli scrumjet o ramjet visto che va di moda oggi il termine ipersonico e ci sono certi vantaggi che vedremo questa tecnologia dell'ipersonicità e di questi motori esotici in realtà è vecchia era già stata sviluppata negli anni 60 il motore scrumjet in realtà se prendiamo il suo concetto di funzionamento molto semplice è un tubo fondamentalmente non ha parti mobili stadi turbine funziona in modo semplice inizia a spingere e a funzionare oltre velocità nell'ordine di mac 5 quindi mac 5 è considerato il limite oltre il quale si dice ipersonicità quando il flusso d'aria raggiunge pressione e temperature in grado di iniziare il ciclo di spinta inizia a funzionare il motore non può funzionare prima in realtà la costruzione di questi motori esotici non è così semplice perché a quelle velocità tutto accade troppo velocemente i materiali devono essere in grado di resistere a temperature superiori ai 5000 gradi e quindi è un bel problema soprattutto un oggetto che viaggia a quelle velocità in bassa atmosfera tende a sciogliersi o vaporizzarsi come un meteorite a causa dell'attrito poi c'è un altro problema legato al plasma che si genera a quelle velocità e funziona un po come uno scudo uno schermo riflettente non permette le trasmissioni in entrata o in uscita tra l'oggetto e l'esterno e viceversa il plasma poi fra l'altro non è stelt essendo molto riflettente e soprattutto l'enorme quantità di calore generata e la luce sono visibili a centinaia di chilometri di distanza con qualsiasi sensore elettroottico l'utilità delle armi e del volo ipersonico di conseguenza è materia di dibattito è discutibile specialmente perché il volo di un oggetto a quelle velocità è possibile solo ad altissima quota dove l'aria è molto rarefatta e la superficie dell'oggetto non si scalda così tanto da autodistruggersi teoricamente un aereo che resta manovrabile un oggetto che resta manovrabile a quelle velocità come un missile per esempio risulterebbe molto difficile da intercettare teoricamente potrebbe volare attraverso il territorio nemico senza problemi evitare le aree di maggiore intensità di difesa aerea e fare sì ricognizioni fotografie raccogliere dati ma per contro volando a quelle quote ed essendo un oggetto molto luminoso non passerebbe comunque inosservato quindi non sarebbe comunque un oggetto stealth per niente e questo è un punto diciamo negativo del sistema per questo sarebbe comunque sempre meglio un satellite per fare ricognizioni non ci piove se invece parliamo di un'arma un missile ipersonico non parlo di quelli russi ma per esempio del mago americano che combina le piccole dimensioni tali da poter essere trasportato nella stiva di un aereo stealth come l'f35 allora il missile ipersonico se non è visto partire ma appare all'improvviso all'ultimo momento lanciato da un aereo stealth sfrutta al massimo la sua caratteristica principale che è appunto l'effetto sorpresa e quindi sfrutta i ridotti tempi di reazione della difesa avversaria a quel punto avendo un volo un tempo di volo molto ridotto può essere efficace ma comunque finita la sua parabola balistica quando dovrà colpire al suolo dovrà rallentare in ogni caso a causa della densità dell'aria quindi i missili personici possono essere elusivi nel loro tratto di volo ad alta quota ma nel tratto terminale possono essere intercettati come tutti gli altri i sistemi di guida di questi oggetti poi devono basarsi esclusivamente sulla navigazione inerziale perché appunto il plasma che si genera intorno a loro impedisce le trasmissioni e presumibilmente potranno fare solo piccole correzioni per tornare all sr 72 è chiaro da subito è stato chiaro da subito che si trattava di una piattaforma per lo sviluppo di nuove tecnologie per riuscire almeno nell'intento a incorporare più sistemi di propulsione in grado appunto di permettere al velivolo di raggiungere il fatidico valore di mach 5 e poi da lì attivare lo scrumjet il che può sembrare rivoluzionario ma è un enorme gigantesca sfida ingegneristica il grosso di questi studi si stanno compiendo proprio per risolvere questi enormi problemi dovuti alle temperature il raffreddamento e al far raggiungere mach 5 a una turbina convenzionale che non è cosa da poco non a caso tutti i missili ipersonici che esistono ad oggi sono spinti da motori a razzo per poter raggiungere mach 5 a quel punto si attiva il loro motore esotico nonostante nasa e lockheed abbiano avuto dei finanziamenti nel 2014 per poter studiare la fattibilità di un motore esotico di questo tipo si sono orientati verso un ramjet che potesse attivarsi a regimi di mach molto bassi ad oggi comunque nessun prototipo delle serie 72 è stato prodotto la lockheed ha rinviato continuamente la sua uscita con dichiarazioni poco poco attendibili con una possibile entrata in servizio negli anni 30 e che questo uav potrebbe equipaggiarsi con missili ipersonici è un fatto però che questi studi potranno facilmente affluire sui caccia di sesta generazione se parliamo almeno della possibilità che possa in qualche modo un motore esotico essere equipaggiato su un aereo di sesta generazione ed è anche un fatto che la lockheed ha sviluppato e sta portando avanti il suo progetto per sostituire gli agm 88 i classici missile missili antiradiazioni che sono quelli utilizzati a grande maggioranza dagli stati uniti sono i missili che servono per distruggere le postazioni missilistiche sostituirli con i più moderni e i personici maco che sono stati presentati da poco che poi in realtà anche gli agm 88 erano i personici ma vabbè questo è un altro discorso comunque si cercano volontari per volare su un aereo a oltre max 7 gente come direbbero gli americani con le balle with balls persone che sopportano bene il caldo che hanno attributi che possono pesare fino a 4 kg e insomma serviranno tanti piloti come tommaso crociera alias maverick bene amici con questo è tutto per oggi fatemi sapere nei commenti come sempre cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi un abbraccio alla prossima